Milan che chiude bene gli spazi e Ronaldo che viene a fare l'ala sinistra, prova il dribbling tutto difficile, poi Simeone, ancora Ronaldo e qui l'intervento di questa curta di quelli vediamo che ci sono le proteste di tutti i giocatori dell'Inter che si accaniscono contro l'arbitro Cesari e vediamo che cosa succede mentre Desai, vedete, prova a farsi giustizia sommaria nei confronti di Colonnese vediamo quello che è accaduto, mi pare che il fallo è piuttosto clamoroso anche perché aveva l'uso l'intervento, si era portato avanti il pallone Ronaldo Costa Curta ha visto superato e è andato sulle gambe di Ronaldo sicuramente è stato un brutto fallo ma non penso si sia infortunato, almeno spero per l'Inter Ronaldo vedete la smorfia di dolore del pallone d'oro